abbiamo dei foglietti con dei personaggi famosi Celentano, Fiorello, Fantozzi, Ligabue, Casanova, Dalla e Proietti ok? fantastico chiudo tutti i fogliettini così vedi? li chiudo tutti in questa maniera e adesso li dovremo andare a mescolare in modo tale da levare qualsiasi tipo di ordine o altro ok? qui guarda ho un contenitore vedi? all'interno è vuoto col suo coperchio va bene? è semplicissimo metto il coperchio sopra, c'è un foro tu inserisci tu stessa i foglietti all'interno del contenitore una alla volta ok? ok? quindi in questa maniera spodendo un po' il contenitore i foglietti cambiano qualsiasi tipo di ordine perfetto adesso io mi giro di schiena, levo il coperchio, tu dovrai pescare uno tra quei foglietti ok? ok? quindi mi giro così, pesca un fogliettino dove vuoi? guarda il contenuto ci sei? guarda io rimetto anche il coperchio e un notale che siamo sicuri dov'è? un notale che siamo sicuri che non possa guardare niente perfetto ci siamo? hai in mente un nome? sì fantastico tieni il foglietto rivolto verso di te, nascosto in mano che non possa guardare perché adesso mi giro ok meraviglioso pensa al nome che hai scelto pensa al nome che hai scelto ah, beh, sicuramente un personaggio molto famoso un personaggio che lavorava nei villaggi turistici è fantastico e famosissimo ex codino nazionale quindi non bacio ovviamente ma parliamo di fiorello fantastico, fiorello grande, grande fiorello e non ci sono assi Grazie a tutti.